Dal 5 febbraio il Parco archeologico di Elevelia transiterà sotto un profilo amministrativo e gestionale dal polo museale della regione Campania alla direzione del Parco archeologico di Pestum, con cui formerà un unico istituto autonomo. E questo è un passaggio auspicato da molti e da tempo, conseguito con pervicace costanza da parte del sindaco di Ascea Pietro D'Angiolillo, del direttore pestano Gabriel Zuchtrigel e dell'onorevole Alfonso Andrea, quest'ultimo già tra i promotori, quale presidente della provincia di Salerno, di un'altra tappa fondamentale, quella del riconoscimento UNESCO, che unisce le emergenze archeologiche di Pestum e Velia, nonché la certosa di San Lorenzo di Padula, quale espressione di un unico sito UNESCO. Le entusiastiche speranze riposte in tale nuovo assetto non debbono farci cadere nell'inganno di ritenere che questo accorpamento con Pestum possa cambiare le sorti di Elea Velia, con la Presidente dell'Associazione Genius Loci Cilento, Giuseppe Di Vietri. Giuseppe Di Vietri, Presidente dell'Associazione Genius Loci Cilento, è arrivato finalmente, diciamo, l'accordo per accorpare il parco archeologico di Velia a quello di Pestum. Giorno 7, tra l'altro, alla fondazione Alario verrà presentato e verrà messo in atto questo progetto, questo matrimonio, però affinché i matrimoni vadano bene, serve la collaborazione di tutti. Sì, l'accorpamento di Velia a Pestum è un'occasione auspicata da molti e da tempo ed è un'occasione che non possiamo lasciarci sfuggire come territorio perché la sfida che ci attende non riguarda soltanto garantire la manutenzione del parco velino o aumentare il numero dell'afflusso turistico. La sfida che ci attende è più ampia per far sì che il parco archeologico di Velia diventi un driver di sviluppo per l'intero territorio. L'impegno del direttore Suk Trigel nel parco archeologico di Pestum si è focalizzato anche sul coinvolgimento degli attori territoriali ed è quello che si andrà a fare con la prima iniziativa che ha promosso il giorno 7 all'auditorium della fondazione Alario, incontrando il territorio per imbastire un primo passo per elaborare un progetto per il parco archeologico di Velia e noi come associazione Genio Solo Cicelento abbiamo inteso invitare con una lettera aperta i sindaci che nel 2016 hanno sottoscritto un protocollo d'intesa attorno alle Avelia e per la valorizzazione integrata delle risorse territoriali perché il rilancio di Velia passa da una modifica, da un'attivazione dell'intero ecosistema per far sì che Velia diventi un'occasione di sviluppo strutturale e con prospettive di lungo periodo per l'intero territorio. Ecco, affinché tutto venga conservato e si possa anche creare l'indotto turistico, aumentare l'indotto turistico tanto sperato, c'è bisogno di una collaborazione costante anche da parte delle amministrazioni comunali territoriali, di tutte le amministrazioni comunali territoriali. Sì, la collaborazione deve avvenire da parte di tutti i decisori pubblici, da chi ha sottoscritto il protocollo ma anche da altri comuni, da altri soggetti che non hanno sottoscritto ancora il protocollo che io auspico possa diventare una prima forma di una governance del Parco archeologico di Velia, una governance che attualmente è mancata. Questo perché, come dicevo, il percorso che ci attende deve essere strutturante, deve avere delle prospettive di lungo periodo, ma non di meno ad essere partecipi, devono essere anche i cittadini, il tessuto anche imprenditoriale, sociale, il terzo settore, perché il coinvolgimento non deve limitarsi ai portatori di interesse che esigono e richiedono, ma anche agli asset holder, ossia i portatori di capacità, di risorse che possono contribuire alla generazione di valore ponendo al centro il Parco archeologico di Velia. Ecco, ma si deve anche sottolineare la tutela del Parco, quindi affinché insomma tutto questo progetto possa avere una durata lunga e non possa essere abbandonato, diciamo, dopo poco tempo. Gli aspetti che riguardano la tutela sono moltiplici, passano dalla tutela e della gestione ordinaria di quelle che sono le problematiche del Parco archeologico, dalla tutela anche del Verde, che deve essere inserito anche in un progetto di gestione del Verde, perché noi parliamo di un parco archeologico dove le evidenze archeologiche hanno pari rilievo assieme alle evidenze naturalistiche, e questo è il senso di un parco archeologico. E non di meno ricordiamo ad esempio i diversi incendi che hanno colpito il Parco negli anni passati, che hanno portato anche alla chiusura di Porta Rosa, dell'Acropoli e via discorrendo. L'altro aspetto che riguarda la tutela e anche gli aspetti di promozione e valorizzazione riguarda l'istituzione di un museo nazionale per Elea Velia, attività promossa dal senatore Cassiello, a cui noi come associazione io personalmente abbiamo dato un supporto anche realizzando una nota che abbiamo indicato, fornito al sottosegretario del MIBACT, Anna Lauro Rico, che ce l'ha richiesta. Un'elaborazione di una struttura museale che deve essere intesa non come mero contenitore in cui esporre dei reperti, ma come un polo culturale di rango territoriale che serve a produrre nella contemporaneità quelli che sono i valori di Elea Velia, valori di Elea Velia che si espandono, si irradiano nel territorio. Questo perché, come sosteneva anche l'ambasciatore UNESCO Francesco Caruso, un parco, un sito UNESCO funziona soltanto se funziona il contesto, in maniera tale che il parco archeologico, che è un sito UNESCO, vada ad irradiare anche il contesto che lo circondi, il contesto territoriale. Ecco, ma che fine ha fatto questo protocollo d'intesa che avete presentato? Dunque, il protocollo d'intesa non lo abbiamo presentato noi personalmente, è un protocollo d'intesa che nasce da un'idea di un amministratore illuminato, che è il collega Pasquale D'Angiolillo, il quale partecipò anche alla realizzazione, all'elaborazione, quando era assessore al Comune di Ascea, del PIT Grandi attrattori, primi anni 2000, in cui per la prima volta poi si parlò anche della realizzazione di un museo nazionale per Elea Velia. Questo protocollo d'intesa fu da lui ideato e poi è stato ripreso dall'attuale amministrazione, dall'attuale sindaco Pietro D'Angiolillo, nella precedente consigliatura, ed è stato firmato da, se non sbaglio, 12 sindaci, oltre all'ente parco del Cilento, il gruppo archeologico Velino, la comunità montana, Bussento, Lambro e Mingardo e il segretariato regionale del Ministero.